liberi dentro eduradio e tv un ponte tra carcere e città bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri tele radioascoltatori nuova settimana con liberi dentro eduradio e tv la nostra trasmissione che fa da ponte tra carcere e città ciao antonella sempre qui con me ciao caterina ciao a tutti a tutti allora antonella torniamo sulla nostra cronaca sociale sulla nostra attualità anche politica e carceraria perché come sapete il 25 di settembre ci sono state le elezioni in queste ultime settimane si è creato il nuovo governo e quindi sono stati assegnati i nuovi compiti ai vari ministeri e al ministero della giustizia antonella hai sentito e ho sentito che c'è carlo nordio praticamente sì carlo nordio che è stato magistrato fino a pochi anni fa neoparlamentare a 75 anni è stato nominato ministro della giustizia dalla nuova presidente del consiglio giorgia meloni c'è anche da dire caterina che tra i papabili si era sentito parlare anche di elisabetta casellati l'ex leader che è stata in senato rilanciata poi da forza italia mentre nordio se vuoi è un nome proposto interamente dai da fratelli italia ora però dobbiamo cercare un attimo di capire meglio il suo profilo caterina guarda è la domanda che sta rimpallando in tutti un in tutti i giornali quotidiani online che ho sfogliato in questi giorni mi affido un po all'inizio anche al manifesto e al correre della sera andando a vedere un po chi è carlo nordio nato a treviso classe 1947 ovviamente è laureato in giurisprudenza essendo magistrato e anche tecnico e studioso del diritto ha spesso contestato le posizioni delle correnti maggioritarie della magistratura da anni è considerato un giurista di riferimento di alcune battaglie identitarie della destra italiana come per esempio la separazione delle carriere dei magistrati e il ritorno alla immunità parlamentare che come sapete sancita l'articolo 68 della costituzione che stabilisce per deputati e senatori in carica che i membri del parlamento non debbano rispondere delle loro opinioni dei loro voti che esprimono durante l'esercizio delle loro funzioni. Caterina dacci due dritte sulla sua carriera in magistratura che ci interessa molto. Guarda è entrato in magistratura verso la fine degli anni 70 in particolare il 77 in Veneto e da procuraggiatore aggiunto a Venezia negli anni 80 si è occupato delle indagini sulla presenza delle brigate rosse in Veneto negli anni 90 ha lavorato a fronte Veneto sempre sull'inchiesta Mani Pulite quindi i tangentopoli e sulle coprosse. Nel nuovo millennio fu titolare dell'inchiesta sul Mose di Venezia indagini che portarono all'arresto dell'allore presidente della regione Giuseppe Galan e poi nel 2017 ovviamente per raggiunti limiti di età è andato in pensione. Senti non perché tu abbia la sfera di cristallo ma perché hai letto un sacco di giornali e adesso è al governo come ministro della giustizia ma che cosa ci possiamo aspettare dal nuovo guarda sigilli in materia di esecuzione penale? Passando un po' la cronaca si ha ovviamente di tutti i colori noi dobbiamo guardare poi ai fatti alla fine. Si dipinge un po' il ritratto sul manifesto in particolare in questo articolo a firma di Eleonora Martini di un Carlo Nordio diciamo che è stato che ha presieduto anche nel 2004 la commissione parlamentare per la riforma del codice penale che proponeva un nuovo modello nel quale il carcere era immaginato come extrema razio e questa è una cosa positiva se ci pensiamo anche per riformare il sistema carcere. La proposta però bocciata dalla Lega ovviamente non è passata e proponeva l'abbattimento della custodia cautelare l'eliminazione delle pene pecuniarie e anche la conversione della pena detentiva in casi meno gravi in pene interdittive ablative o prescrittive e anche un sistema di sanzioni meno afflittive pur restando ovviamente l'ergastolo che è uno dei capisaldi ecco della destra che non tramonterà mai forse. I lavori della commissione Nordio come detto non portarono a nulla perché fu bocciata la sua proposta ma la sua buona cultura giuridica è apprezzata tra gli altri anche dal garante nazionale dei diritti delle persone private da libertà personale quindi Mauro Palma. C'è da dire che sull'esecuzione della pena sul carcere sulla vita dei detenuti sulla tutela dei loro diritti Nordio non si è mai così tanto espresso diciamo che non ha mai esercitato molto il suo pensiero per così dire liberale e non è un caso aggiunge la giornalista del manifesto perché a giudicare della sua comunicazione sui social dove il refrain dei suoi commenti riguarda la limitazione delle intercettazioni, slogan contro l'immigrazione clandestina, i durissimi commenti anche contro le condanne da parte della corte europea dei diritti dell'uomo verso l'Italia ecco forse ci sarebbe da aspettarsi il peggio. Questo conclude la giornalista del manifesto noi speriamo di no speriamo che invece le riforme che lui proponeva vengano applicate ma ora mi fermo qui per passare il testimone a Lorenzo Amorosi e Simone Resca di Aspe città di Bologna che intervistano Maria Rosa Mondini del Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione che ha come finalità statutaria il fatto di promuovere e curare servizi e attività di mediazione in ambito sociale, scolastico, familiare e penale. Le chiedo Maria Rosa, secondo lei esistono dei possibili miglioramenti che potrebbero appunto essere inseriti all'interno della mediazione in carcere. Eh sì Lorenzo che ci potrebbe essere qualche cosa per migliorare. L'associazione sta cercando di migliorare ogni giorno le proprie capacità di costruire la rete con altre realtà presenti sul territorio e sviluppare una collaborazione costruttiva con le istituzioni. È questo che noi dobbiamo fare. È un nostro impegno quotidiano che poi mettiamo al frutto in ogni attività che svolgiamo. Se la domanda riguarda le persone detenute in carcere, l'associazione e i suoi mediatori sono pronti ad offrire lo spazio e il tempo per ogni persona detenuta. L'associazione è pronta ad offrire il servizio per esempio dello sportello di giustizia riparativa dentro al carcere che sicuramente potrebbe rappresentare un valido canale per diffondere la mediazione ma solo le iniziative che oltre ad essere proposte devono essere anche accolte. Cristina vive dentro al carcere quindi Cristina fa una grande informazione dentro al carcere e questo è molto importante ma bisognerebbe istituzionalizzare uno sportello ma noi siamo già presenti nelle carceri con le varie attività anche in collaborazione con altre associazioni e allora sono da sottolineare le varie attività sportive e qui Cristina è qui accanto a me quindi seguite dai ragazzi dal calcio alla pallacanesto alla pallavolo e anche al tie box con l'area esterna con l'area dei più grandi diciamo così è vero ecco alcuni progetti noi li abbiamo con il cgm che il centro di giustizia minorile ad esempio il progetto atlantide che già la seconda edizione è il progetto riparare il mondo facciamo spettacoli teatrali con ragazzi dentro e fuori il fuori è dato da ragazzi delle scuole il dentro con i cittadini per rendere più visibile il carcere carcere città insieme quindi come un osmosi se invece la domanda si riferisce al carcere come il luogo dove svolgere le mediazioni occorre cautela perché cautela perché il ragazzo deve sapere deve avere consapevolezza deve aver fatto con noi un corso perché il diciamo la finalità è quella di far conoscere la mediazione vero Cristina quindi le regole e la mediazione se a un certo punto il ragazzo dice io vorrei fare una mediazione noi non possiamo dire no non lo facciamo perché siamo in carcere di volta in volta vediamo le possibilità certo certe volte lo possiamo fare certe volte no dipendono molto da quella che è la burocrazia e la burocrazia è fatta da persone se invece la domanda si riferisce al carcere ecco corre cautela nella mediazione viene offerto un tempo e uno spazio nuovo e questo che è importante lo spazio nuovo è quello dell'accoglienza e del riconoscimento dei sentimenti che fino ad ora sono stati compressi taciuti dell'odio del rancore per il tradimento alla vittima non verrebbe mai dato lo spazio la possibilità di poter gridare ciò che veramente ha vissuto l'autore di reato sarebbe forse punito ma non verrebbe in alcun modo dato lo spazio alla sofferenza da cui spesso la violenza sgorga come per come perverso atto comunicativo nella mediazione uno spazio del genere viene accordato vengono dati la parola e l'ascolto ai protagonisti alla profondità dei loro sentimenti e allora il tempo nuovo qual è il tempo nuovo è il presente è il qui e ora tu mi vedi che non sono più quello che tu hai conosciuto non sono più il tuo rapinatore non sono più il tuo stupratore perché se tu mi guardi e tu mi ascolti io sono una persona diversa dopo due anni tre anni di lavoro che ho fatto su di me e questo è molto importante e quindi dove l'altro può venire riconosciuto per come è in questo momento per quello che sta facendo e dicendo ora non per quello che era in quel momento e qui c'è un testo bellissimo è naturalmente preso liberamente dalla poetica della mediazione di leonardo lenzi che io considero come mio fratello ma insomma mio fratello non è ma di leonardo lenzi conosciamo tanto ed è nostro amico anche di claudia landi e allora sia per la vittima sia per l'autore di reato il carcere come luogo fisico dove svolgere le mediazioni è un luogo ideale punto di domanda lo lasciamo lì in sospeso ideale sì se vengono fatte tutte queste premesse e claudia lo sa bene perché claudia in quei progetti del progetto sia del progetto atlantide sia del progetto diciamo riparare il mondo lei ha avuto una sua parte come avvocato ma non solo ma come formatrice all'interno e tutto può partire da stato tutto il lavoro che noi abbiamo fatto in 99 classi qui claudia lo può dire è stata una scommessa che una scuola difficile del territorio ha detto se voi riuscite a venirne fuori da quella classe noi vediamo un progetto che si chiamava fai la cosa giusta siamo riusciti a fare questo claudia è stata bravissima con la sua pazienza e la sua autorevolezza e quindi la sfida l'abbiamo vinta abbiamo avuto questo bel progetto in 99 classi e dopo aver ascoltato maria rosa mondini passiamo caterina ad una storia di una cinquantina d'anni fa una storia vera i sopravvissuti della squadra di rugby dell'old christian club dell'uruguay e sembra un po' una storia di fantascienza in realtà quando l'ho riletta ricordavo che questa cosa era risuonata nel tempo perché poi ha avuto anche un seguito era il 12 ottobre del 1972 quando il volo charter 571 della forza aerea dell'uruguay decollò da montevideo con a bordo la squadra di rugby dell'old christian club un collegio cattolico della capitale uruguayana a bordo alcuni parenti amici dei giocatori l'equipaggio ovviamente e in tutto il volo c'erano 45 persone alcune erano state convinte a partire per ammortizzare i costi del viaggio quindi neanche diciamo così spontaneamente i giocatori erano diretti a santiago del cile per affrontare una squadra locale ma una tormenta li obbligò a fare sosta a mendoza in argentina dove trascorsero la notte il pomeriggio del giorno successivo l'aereo ripartì anche se le condizioni meteorologiche non erano del tutto ottimali pochi minuti dopo il decollo il velivolo si schiantò sulle ande a più di 4000 metri di altitudine Antonella non c'è che dire una tragedia annunciata praticamente anche perché in passato se non ricordo male partire con condizioni meteorologiche così avverse era ancora più pericoloso perché non si sapeva come sarebbe evoluto il meteo infatti hai proprio ragione oggi abbiamo dei mezzi molto più sofisticati per prevedere certe certe cose certi eventi pensa che al momento dell'impatto ali e coda si staccarono e 11 passeggeri tra cui tre persone dell'equipaggio ovviamente morirono la fusoliera continuò a precipitare lungo il ghiacciaio e si fermò a circa 3600 metri in territorio argentino intorno c'erano solo le ande i sopravvissuti erano praticamente in mezzo a ghiaccio e neve senza indumenti adatti perché non era previsto che si fermassero in un luogo tanto freddo e nessuna esperienza di alpinismo per ripararsi avevano solo la fusoliera dell'aereo e 18 persone persero la vita nei primi giorni successivi all'incidente aspettando i soccorsi che poi in realtà non sarebbero mai arrivati dopo una settimana di ricerche di ricerche inutile infatti le operazioni si fermarono vennero sospese le autorità decisero di aspettare che l'estate australe sciogliesse la neve e portasse alla luce i resti dell'aereo e ovviamente i corpi che erano a bordo nessuno si aspettava di poter trovare dei superstiti e però ti voglio citare una frase che ha detto carlos paez che invece uno dei super sopravvissuti lui dice il messaggio più potente di tutta la storia è che non sono stati gli altri a trovarci siamo stati noi ad andare a chiamare gli elicotteri l'ho capito solo col tempo una cosa e lasciare che le cose succedano un'altra e fare in modo che accadano e infatti queste sono le parole di uno dei sopravvissuti al quotidiano espagnolo è il paese quindi ricordiamolo 45 persone sul sul veilivolo 18 purtroppo hanno perso la vita gli altri si sono salvati ed è una storia di resilienza la loro anche oltre che di sopravvivenza hai ragione ma pensa che per arrivare a chiamare i soccorsi ci sono state più più tentativi però furono fernando parrado e roberto canessa a rischiare il tutto per tutto perché avevano ascoltato da un radiotrasmettitore incastrato nelle lamiere che le operazioni di ricerca erano state sospese a quel punto l'unica possibilità di salvezza era raggiungere un luogo abitato non c'erano altre possibilità sapevano di avere pochissime probabilità però decisero di provare dopo che qualcuno che aveva pensato di partire prima di loro alla richiesta di soccorso tornò indietro perché aveva paura di morire congelato questi due ragazzi decisero di andare attraversarono le andi scalarono quindi queste montagne e dirigendosi a ovest senza poi sapere che a meno di 70 chilometri avrebbero trovato un villaggio dopo nove giorni di cammino incontrarono delle mucche al pascolo e il giorno dopo videro il mandriano un cileno che si chiamava sergio catalan gli altri superstiti furono raggiunti con gli elicotteri dopo poche ore e portati in salvo il 22 dicembre pensa caterina erano passati 72 giorni dall'incidente c'è da dire che questi sopravvissuti poi non furono trattati tanto bene dall'opinione pubblica perché una delle voci circolate in seguito all'incidente fu che per sopravvivere dovettero cibarsi delle carni dei loro compagni di viaggio è così? Eh sì è proprio così furono accusati di essere cannibali di fatto e oggi a 50 anni dalla vicenda chi è sopravvissuto ne parla senza vergogna né peli sulla lingua infatti lo stesso Canessa dice portare un po' di carne dei nostri compagni amici nell'anima e nel corpo è un onore che avrei sentito se fossi morto sapere che mi avevano usato per vivere e poi racconta come ha imparato un po' ad affrontare questa questa questione in pubblico alle conferenze in cui è stato invitato a partecipare e di solito lui dice io ribalto la domanda qualcuno dei presenti non lo avrebbe forse fatto e nessuno alza mai la mano e quindi quando passi dieci giorni senza mangiare assolutamente niente le decisioni alla fine le prendi più facilmente anzi sostiene sempre Canessa ti dico una cosa se oggi l'aereo su cui viaggio precipitasse sulle ande non aspetterei dieci giorni per farlo ma dopo questa ultima frase io passo la parola a Martina Tognelli che ci parla del festival del turismo responsabile di Bologna un'iniziativa che nasce a Bologna ma che nel corso del tempo è cresciuta fino ad arrivare a 24 tappe sparse su tutto il territorio nazionale ascoltiamola io sono Viviana ciao io sono Astrea ciao a tutti io sono Giulia ciao io sono Martina ciao io sono Giulia ciao io sono Stefano benvenuti e benvenute a un'altra puntata di una finestra sul mondo noi siamo Astrea Stefano e Martina e oggi vi racconteremo la nostra esperienza al festival Itaca quest'anno il festival ha coinvolto 14 regioni per un totale di 24 tappe in tutta Italia giunto alla sua quattordicesima edizione e noi abbiamo fatto parte dello staff e curato l'organizzazione della tappa di Bologna ed intorni si tratta di un festival di turismo responsabile ma che cos'è il turismo responsabile? il turismo responsabile sostenibile è un tipo di turismo rispettoso dell'ambiente e dell'intera comunità che lo abita persone, animali, vegetali diciamo che non è una semplice vacanza né tantomeno solo divertimento ma è un modo di vivere il territorio in maniera più consapevole e più attenta infatti si possono scoprire luoghi poco conosciuti che non si trovano all'interno delle guide turistiche ma proprio questi luoghi nascondono delle storie uniche al festival Itaca, promotore del turismo responsabile e sostenibile possono partecipare le persone di tutte le età e di tutte le abilità infatti basta pensare per esempio come le persone non vedenti grazie ad una persona e a dei speciali tandem possono percorrere i chilometri degli itinerari in bicicletta oppure alle persone non vedenti che grazie alla lingua dei segni riescono a seguire le spiegazioni dei luoghi infatti Itaca è un festival che non vuole lasciare da parte nessuno ma che cosa significa Itaca? Itaca è un'espressione del dialetto bolognese che significa sei a casa? e che cos'è la casa se non il luogo della famiglia? il luogo dove sentirsi amati, dove sentirsi protetti il luogo da cui spesso partiamo e torniamo solo dopo aver intrapreso un lungo viaggio alla scoperta del mondo che ci circonda e alla scoperta di noi stessi un po' come ha fatto Ulisse il personaggio della mitologia greca il protagonista dell'Odissea che è tornato a Itaca, la sua terra solo dopo un viaggio che ha durato tanti lunghi anni il festival Itaca vuole essere questo vuole essere viaggiare vuole essere scoprire e conoscere nuovi posti vuole essere incontrare nuove persone con cui condividere momenti, attimi, esperienze insieme l'evento che mi è piaciuto di più è stato il laboratorio di creazione di cappelli presso il quartiere di San Donato San Vitale il laboratorio si è svolto nella mattinata di sabato 24 settembre in piazza dei Colori a Bologna nel quartiere di San Donato San Vitale grazie alla guida e alle istruzioni di Giusy Ledda specializzata nella costruzione di cappelli artigianali durante il laboratorio abbiamo creato dei cappelli a partire da delle basi di paglia derivate da diversi materiali come la palma, il riso o il grano per riuscire a modificare la forma e le dimensioni dei cappelli come prima cosa è stato necessario bagnare con acqua le basi e successivamente, prima che si asciugassero modellarne la forma con mollette da bucato e spago in questo modo sono stati realizzati cappelli a forma di gallina o a forma di fiore altri ancora a forma di vasi pieni di piante per rendere più belli i nostri copricapi li abbiamo colorati usando colori acrilici e attraverso l'utilizzo di piume, stoffe di vario genere nastrini, ago e filo e tanta fantasia abbiamo arricchito di dettagli colorati le forme dei nostri cappelli questi ultimi sono stati poi indossati durante la sfilata fatta il giorno successivo domenica 25 settembre durante la quale i cappelli hanno rappresentato il tema della sfilata stessa ossia la natura si riprende la città che voleva essere un invito a pensare e fare attenzione al modo con cui ci relazioniamo alla natura anche attraverso le scelte che facciamo ogni giorno come ad esempio quando scegliamo di utilizzare una bottiglia d'acqua di plastica anziché in vetro o quando decidiamo di muoverci con l'auto anziché con i mezzi pubblici gli eventi del festival che più mi sono piaciuti sono state le passeggiate urbane alla scoperta dei quartieri di Bologna le passeggiate e le pedalate si sono svolte durante i fine settimana del festival e potevano essere di mattina o di primo pomeriggio i percorsi all'interno dei quartieri della Bolognina della Cirenaica di Porto Saragozza Savena e di San Donato San Vitale sono stati guidati da cittadini e cittadine che fanno parte di tante associazioni diverse del territorio che sono impegnate attivamente nell'organizzazione di attività culturali e sociali è stata un'iniziativa molto apprezzata da tutti i partecipanti perché ha mostrato gli aspetti più insoliti e nascosti a volte misteriosi della città di Bologna quelli che soltanto chi vive in quel determinato quartiere può davvero conoscere e svelare a tutti gli altri ed è così che le piazze e le strade i giardini, i negozi, perfino i ristoranti si sono trasformati in un teatro a cielo aperto dove le persone si sono incontrate hanno ballato, hanno cantato, hanno riso insieme hanno ascoltato delle storie e ne hanno raccontate di altre le passeggiate e le pedalate hanno permesso di scoprire tanti posti incredibili come ad esempio il vecchio villaggio dei ferrovieri che è stato costruito proprio tra due ferrovie o il mercato Albani uno dei mercati più storici di Bologna con le serrande tutte dipinte, tutte colorate dove non solo puoi comprare formaggi, carne, pesce, frutta e verdura ma puoi andare con gli amici a fare un aperitivo e poi la cucina africana di Chidane o il virgolone un edificio curvilinio che si trova nel rione Pilastro è stata davvero una bella esperienza ho scoperto e visto posti di Bologna che non sapevo neanche esistessero tantissime persone hanno preso parte agli eventi in programma del festival e molte attività hanno raggiunto il numero massimo di partecipanti un risultato davvero importante per tutte le associazioni coinvolte noi ci vediamo alla prossima puntata con nuove storie da raccontare e dopo quest'ultimo servizio è il momento dei saluti di fine puntata ci rivediamo domani sempre stessi canali stessi orari e vi ricordiamo anche di scriverci al nostro indirizzo di posta email redazione liberi dentro chiocciolagmail.com e anche per la posta cartacea a casa Don Giuseppe Nozzi in via del Tuscolano 99 40 128 Bologna e anche di partecipare a questa campagna che abbiamo lanciato già la settimana scorsa Parlami Dentro per scrivere lettere verso le persone che vivono la detenzione che saranno la campagna natalizia da dicembre in poi quindi scriveteci a parlamidentro chiocciolagmail.com le lettere più belle le utilizzeremo noi di Edu Radio per raccontarle dentro grazie e a domani grazie a tutti Grazie a tutti.